Questo breve video tutorial vi insegnerà a decomprimere un file o una cartella compressa, ossia a riportare questo file o questa cartella alle dimensioni originali. Abbiamo ricevuto il contenuto via mail oppure l'abbiamo scaricato da internet e adesso per poterlo modificare decomprimerlo con uno dei principali software. Possiamo scegliere tra WinRAR, WinZip o 7Zip per esempio. Noi su questo computer abbiamo installato il software 7Zip perché è l'unico completamente gratuito. Procediamo con la decompressione. Selezioniamo la cartella con il tasto destro del mouse e clicchiamo su 7Zip. Successivamente clicchiamo su Estrai qui. In automatico avremo la decompressione della cartella. Possiamo confrontare le dimensioni su disco guardando tasto destro proprietà. Nel primo caso sono ridotte, nel secondo caso sempre tasto destro e proprietà. Il file è stato decompresso perciò sono maggiori. All'interno di questa cartella decompressa possiamo selezionare i file che ci servono e modificarli eventualmente. Grazie. Grazie. Grazie.